Si compie un ulteriore passo per fare giustizia a questa povera ragazza, siamo soddisfatti di questo ulteriore obiettivo raggiunto, significa che la macchina delle ricerche non si è mai fermata, io non so se si chiuderà un cerchio, io sono convinta che forse ci sono ancora tante cose da scrivere su questo caso, da dire, da scoprire, la sentenza effettivamente è stata poi pubblicata un mese fa, ha individuato nella madre una figura cardine, per cui il fermo proprio di questa donna credo che oltre al tema della pena che è stata giustamente scritta, insomma, io sono anche molto, insomma, in qualche modo attenta al fatto che potrebbe scriversi ulteriori capitoli di questa storia. Notizia importante, una notizia molto, molto attesa, si compie un ulteriore passo per fare giustizia a questa povera ragazza, insomma, siamo soddisfatti di questo ulteriore obiettivo raggiunto, insomma, significa che la macchina delle ricerche non si è mai fermata, tra l'altro insomma, a differenza di quando venne fermato Shabar, in questo caso abbiamo una persona che risulta già condannata, quindi attenderemo i tempi dell'estradizione, però nello stesso tempo io vorrei dire si chiude un cerchio, io non so se si chiuderà un cerchio, io sono convinta che forse ci sono ancora tante cose da scrivere su questo caso, da dire, da scoprire e il fermo di Natia, l'arrivo, speriamo presto, in Italia potrebbe effettivamente sviluppare magari ulteriori informazioni che non sono magari emerse durante il processo, per cui per noi è molto importante, perché fare piena luce e piena giustizia, perché peraltro insomma, sappiamo che è già stato annunciato, insomma, probabilmente il processo avrà una seconda, si riaprirà, insomma, quindi credo che sarà fondamentale a questo punto avere tutti i protagonisti di questa vicenda. La sentenza, la sentenza effettivamente è stata poi pubblicata un mese fa, insomma, ha individuato nella madre una figura cardine, per cui il fermo proprio di questa donna credo che, insomma, oltre al tema della pena che è stata giustamente in vita, insomma, io sono anche molto, insomma, in qualche modo attenta al fatto che potrebbe scriversi ulteriori capitoli di questa storia, ecco, anche perché la sentenza ha individuato responsabilità chiare e con delle pene anche esemplari, due ergastoli, insomma, un'altra pena per lo zio più ridotta, ma insomma, è chiaro che potrebbe anche accadere qualcos'altro, nel senso che tutti quanti noi ci siamo sempre interrogati, no, sul ruolo, diciamo, più ampio, potenzialmente più ampio di questa famiglia, no, al processo sono andati anche i cugini che poi sono stati pienamente assolti. Ecco, io non so che cosa potrà accadere, però è chiaro che il fermo di Nazia potrebbe scrivere ulteriori pagine che fino ad ora non sono state esplicitate. Sto per chiudere il mandato, per me, insomma, quantomeno è una notizia attesa e, insomma, davvero si fa un passo in avanti importantissimo, importantissimo. Grazie. Grazie.